sarebbe l'unione centro spirituale frattocchie anno 1994 a cura di vb domanda questo nuovo tracciato di cui hai parlato sarebbe l'unione di tutti i centri spirituali che esistono nei nostri dintorni o parli anche di centri più distanti questo tracciato è un centro luminoso che collega tutti gli altri centri e da questo punto fermo in cui in questo istante voi vi trovate partirà la vibrazione perpetua che collegherà l'uno all'altro in questo momento in cui intorno a voi vedete smarrimento è perché tutto si sta trasformando e sta passando da un punto fermo ad un punto più vibrante comprendi il significato di queste mie parole e per il passaggio da un piano all'altro gli esseri percepiscono in loro tutta questa materia ed è per questo che devono abbandonare i vecchi abiti e tutto ciò che è vecchio per arrivare al nuovo ma per arrivare al nuovo bisogna abbandonare il vecchio e tutto questo porta a questi smarrimenti queste incomprensioni questa mancanza di comprendere ciò che sta accadendo intorno a loro ma voi che sapete siate questo amore giacché sapete anche il perché a loro accade questo e conoscete il significato per questa era e per questa evoluzione e questo soprattutto per coloro che continueranno ad avvicinarsi e per i giovani domanda per questi giovani che sono venuti e poi si sono smarriti è stato utile potrebbero ritornare con nuova veste e non più con la vecchia veste non è uno smarrimento è un meditare per comprendere il significato dei messaggi trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo e di insolito porta questi esseri ad una stasi che non è un fermo ma è una parentesi di meditazione per comprendere e per passare ad un'altezza più spirituale in modo che loro stessi un giorno possano essere d'aiuto ad altri giovani ma per arrivare a questo devono prima assimilare ciò che gli è stato dato a 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